Con Iveco Daily Radio sei da 10 più! Ciao, sono Alessandro Del Piero. Voglio farti un assist per entrare nella mia squadra speciale Alle 10 più Players. Iscriviti subito sul sito di Daily Radio per avere accesso a tutti i contenuti esclusivi di Alle 10 più Players. Potrai navigare nelle aree riservate del mio sito, partecipare al concorso Best Players e rimanere in contatto con me. Ma sbrigati! Gli accessi sono limitati e hai tempo solo fino al 28 febbraio. Con Iveco Daily Radio sei da 10 più! Io ti ho fatto l'assist. Ora tocca a te fare gol. Grazie!